è interessante notare come nel momento in cui noi creiamo una forma dotata di un tracciato posizionarla in centro è interessante notare come su un tracciato con uno spessore di 20 pixel abbiamo 10 pixel all'interno e 10 all'esterno questa cosa è possibile modificarla nel momento in cui noi abbiamo un livello forma con all'interno un ellisse per esempio possiamo aggiungere sposta tracciati offset in inglese ora l'offset di default ha una quantità di 10 se io lo metto a 0 di fatto è uguale a prima non è cambiato niente abbiamo sempre 10 da una parte e 10 dall'altra è possibile muoverlo però io posso portarlo a un numero random che dipende dalla grandezza della nostra forma e dello spessore della nostra traccia posso portarlo fino a farlo scomparire e posso portarlo fino a fuori dal quadro ne consegue che io potrei per esempio fare questo porto a 0 attivo lo stopwatch e a un certo punto per esempio a due secondi lo porto fuori quello che ho ottenuto è questo ora se io duplico questo livello e poi lo vado a spasare di un certo numero di fotogrammi allargo l'area di lavoro in modo da vedere tutta l'animazione quello che avrò ottenuto sarà questo guardare il certo numero di fotogrammi allargo l'animazione